...prar che coinvolga le pubbliche amministrazioni, sia il Comune di Ventimiglia che alcuni comuni di Mitro che accettino questa consiglia soluzione, che è più un segnale che è una soluzione definitiva perché i numeri che poi coinvolgerà gli ospiti... Scusa ma avete partecipato al bando per lo Sprar? No, 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 stiamo elaborando la progettualità per il prossimo, cioè quello che servirà perché attraverso questo passaggio c'è una forma nuova, tra virgolette, nel senso che lo Sprar non è più soltanto del cooperativo, i privati si rendono disponibili, ma è anche degli enti locali che possono contribuire anche, più che altro come un'immagine di accoglienza, più come una soluzione, perché i numeri saranno a voi, quindi se Ventimiglia accorghesse 20 persone e altre 30 sui comuni limiti o 50 persone non sono certa la soluzione del problema, però aprono un modo diverso di potenzialmente risolverlo. E di qui poi da cosa può nascere cosa? Attraverso uno Sprar gestito dalla pubblica amministrazione si può anche essere più sicuri, mentre io la vedo in modo positivo, che la formazione dell'ospite, l'apprendimento linguistico di alcune cose di lingua base dell'italiano, l'indirizzo al lavoro, la preparazione, possa essere concreta, questo mi sembra invece uno degli aspetti un po' carenti di coloro che gestiscono alle Sprar, che incassano i 25 euro, danno un'ospitalità minima, ma poi non danno quello che comprende le 35 euro, colpazione, quindi speriamo e stabiliamo.